Ma andiamo a togliere l'apertura di UAV di barcadera, mangiare l'autore di Aztec, fuori comerci, sin embargo, sta reinando un preoccupazione capa per l'adaptazione di tariffa per processare il container, dimostrando l'autore che il fondamento di UAV è un aumento drastico di tariffa, lo quale, sin duda, lo ha fatto il prezzo di prodotto in riba nostra isla, salendo fuori il punto di vista che l'Arupa importa praticamente turco, significa che ora la UAV aumenta il prezzo con l'effetto grande per l'economia. quanto il aumento sta in l'APA e l'Aztec, non ha annunciato qui oficialmente. Ma andiamo a tardi, noi abbiamo un'accelerazione del cambiamento, il costo non è involvito, però, specialmente, il tariffa nuovo, quello che il prezzo è ora importare il container, lo che costa più in barcadera comparare con il tempo che è arrivato alla playa.